Roberto Maroni, prego Presidente Partecipo con grande piacere e sincero interesse a questa cerimonia celebrativa dell'impegno contro la criminalità organizzata in ricordo delle sue numerose vittime e lo dico da chi, ex Ministro dell'Inferno, la lotta contro la mafia l'ha fatta con i fatti e non con le piacere. L'occasione di questa cerimonia mi è ancora più gradita in considerazione del fatto che ad ascoltarmi oggi c'è il futuro di questo territorio della nostra regione con il futuro che abbiamo l'obbligo di preservare